Dal 1 ottobre 2025 nel comune di Pianura con popolazione superiore a 30.000 abitanti entreranno in vigore le limitazioni ai diesel Euro 5. È una delle azioni previste dal Piano Aria Integrato Regionale 2030 approvato oggi dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna. Non ho le multe sia agli incentivi per il riscaldamento domestico, per l'agricoltura e la zootecnia, per il rinnovo del parco mezzi della pubblica amministrazione, ma anche per gli cittadini che possono comprare bici elettriche e quant'altro. Le azioni previste per 5 ambiti di intervento sono oltre 60. Città e aree di pianura, trasporti e mobilità, energia e biomasse, attività produttive, agricoltura e zootecnia. Con un obiettivo preciso, raggiungere nel più breve tempo possibile e mantenere i livelli di qualità dell'aria stabiliti dalle norme europee e nazionali in modo da evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento per la salute umana e l'ambiente. Lo fa provando a tenere insieme il necessario, cioè quelle che sono le fonti inquinanti che dobbiamo aggredire, con il giusto, accompagnando cittadini, imprese, comuni, nei cambi di abitudini di comportamento affinché si possa ridurre sensibilmente la presenza di agenti inquinanti in atmosfera. Una strategia non condivisa da alcuni consiglieri di minoranza. Un piano con misure draconiane che va contro la nostra agricoltura, contro la nostra industria, contro i cittadini che non potranno più girare liberamente per le loro città. Penso in particolare agli anziani, le persone con più di 70 anni, che fanno pochi chilometri e dovranno cambiare l'auto. La giunta regionale è affetta, come spesso accade, dalla sindrome dei primi della classe, e cioè si spolmona per riuscire ad applicare prima di tutti gli altri dettami europei, ma spesso può accadere che la cura uccida il paziente. E questo non deve accadere. Il paziente è l'imprenditoria. Grazie. Grazie a tutti